Ciao e benvenuti nella nostra ultima acquisizione. Un appartamento che è stato completamente ristrutturato in villa e senza spese di gestione. Ingresso indipendente, giardino, tre locali spaziali. Questa soluzione ha tutte le migliori caratteristiche che si possono trovare e oggi te lo mostrerò. Però prima iscriviti al mio canale YouTube per essere sempre aggiornato sulle più belle soluzioni in vendita a Borghetti e a Toirano. Se ancora non mi conosci, sono Sofia Linsalvo, responsabile del punto vendita a Giacasa di Borghetto Santo Spirito, specializzata in compravendita a Borghetto, prima e seconda case e nel suo entroterra di Toirano. Vieni con me! L'appartamento è composto da tre ampivani, soggiorno con angolo cottura, ingresso indipendente direttamente dal suo porticato e due meravigliose camere matrimoniali, entrambi con sfogo esterno. iscriviti al nostro canale! L'appartamento, come vi ho accennato prima, è senza spiegare un appartamento. presi di gestione, il riscaldamento autonomo in pompa di calore, ed è ubicato all'interno di una villa indipendente che è stata ristrutturata nel 2012 con cappotto termico. La grande agevolazione di questo appartamento è la possibilità di acquistare un immobile nuovo in classe C, non a IVA. Questa è la soluzione perfetta se cerchi la tua prima casa, ideale anche per famiglie numerose che cercano la casa vacanze dei sogni. Se questa soluzione ti ha incuriosito e vuoi approfondire con un appuntamento, chiama questo numero. Se invece anche tu hai la necessità di vendere casa a Borghetto a Toirano, segui il link.